Time to love è la nuova Ollus che sostiene importanti progetti nel mondo a favore di donne e bambini ma non solo. Time to love è anche un modo di dire, quindi tu come dici time to love aspettiamo il tuo video, mandacelo. Michele se dovessi farlo tu il video ad esempio time to love. Vi aspettiamo amici inviati i vostri video perché poi per i più belli ci saranno anche delle grandi sorprese. Come si fa? Mi raccomando inserite l'hashtag fondamentale time to love 2015.